Convegni di Santo Spirito, il ciclo di incontri tra arte e religiosità ci porta all'interno della cappella della famiglia Cini che commissionò ad Alessandro Allori la grande tela di Cristo e l'adultera e che andremo a scoprire con lo storico dell'arte Giovanni Cipriani. È un'opera magnifica, specchio del momento in cui fu realizzata, l'anno 1577. Quest'opera trasmette il pieno significato del mondo della controriforma. La controriforma mirava a celebrare una chiesa che era pronta non a punire ma a aprire il cielo a chi si fosse pentito. Gesù Cristo perdona questa donna, viola in un certo modo la legge mosaica, gli consente di continuare a vivere anziché essere lapidata come gli avevano chiesto. Ecco il messaggio che viene costruito, un messaggio straordinario di maggior apertura, di maggior tolleranza. I colori che oggi li vediamo soltanto come semplici tonalità, in realtà avevano un significato ben preciso, in quello dell'adultera per esempio. I colori sì, molto belli questi usati dall'allori. Noi vediamo l'adultera con questo abito splendido e questo ci richiama a quelle che erano le leggi che Cosimo I aveva emanato e che erano ancora in vigore appunto in questo periodo, 1577. Gli abiti, soprattutto femminili, dovevano essere ispirati alla modestia, al decoro. Solo i membri della famiglia medici, gli uomini, le donne della corte, potevano avere abiti sontuosi, ricchissimi, gioielli a profusione. C'era però un'eccezione. Le prostitute erano libere di mettere ogni tipo di abito, avere anche gioielli vistosissimi. Avevano un compito specifico, molto importante. Non solo rendere lieti i momenti, ma anche spiare, riferire. E avevano un elemento caratteristico per essere riconoscibili. Abiti bordati di giallo. Il giallo era un colore vicino proprio a questo tipo di attività. E non a caso, l'allori, non ha mancato di inserire anche tonalità di giallo nel vestito.